Buongiorno e bentornato ad Orazio Di Miscia, ci hai tornato a trovare responsabile analisi dei mercati e gestioni indirette di Banco Posta Fondi SGR, buongiorno. Grazie dell'invito. Grazie a te Orazio per capire appunto cosa succede adesso. Partiamo proprio dalla riunione della Banca Centrale Europea, l'appuntamento della scorsa settimana, la prima volta si è in Ucraina, insomma le principali indicazioni emerse te le chiediamo e ti chiediamo anche la reazione dei mercati e poi le implicazioni delle decisioni per la nostra economia. Allora sì, la Banca Centrale Europea ha confermato il processo di normalizzazione della politica monetaria nonostante sia aumentata l'incertezza sulla crescita economica futura in virtù del conflitto tra Russia e Ucraina, quindi nella sostanza cosa ha deciso? Terminerà il programma di acquisto straordinario di titoli che aveva messo in piedi durante la pandemia, quello che veniva definito il PEP e rimodulerà al ribasso il vecchio programma di acquisto fino ad arrivare a giugno ad acquistare 20 miliardi di titoli. Da lì in poi, e questa è la differenza rispetto ai meeting precedenti, analizzerà i dati e deciderà quindi cosa fare appunto con le nuove proiezioni economiche. Una cosa è chiara e l'ho ripetito anche in maniera abbastanza netta, il processo di rialzo dei tassi di interesse sarà comunque graduale. Chiarissimo Razio, senti, rimane l'inflazione a livello di record ai prezzi della materia prima, lo sappiamo, sono appunto alle stelle, il conflitto in Ucraina è iniziato il 24 febbraio scorso, sta mettendo indubbiamente a dura prova tutti i mercati azionari. Ecco, c'è il rischio della recessione in Europa, cosa sta succedendo? Allora, ricordiamo che l'inflazione sta crescendo già dalla fine dell'anno scorso, questo perché? Perché subito dopo la fine dei lockdown l'economia ha ripreso a correre in maniera improvvisa, in maniera importante, abbiamo detto anche in altre occasioni che c'erano i colli di bottiglia, cioè l'offerta di beni e servizi non era tale per soddisfare la domanda e questo faceva salire i prezzi. Qui è intervenuto poi la guerra tra Russia e Ucraina che ha fatto aumentare anche i prezzi delle materie prime, di alcune materie prime, ma in particolare dell'energia, del petrolio e del gas, questo fa aumentare l'inflazione. Al momento con i dati a disposizione non ci sono elementi che possono indurre ad una recessione, nel senso che anche la Banca Centrale Europea la settimana scorsa ha indicato che ci potrebbe essere un rallentamento della crescita economica, ma non stiamo parlando di una recessione. Qui al Tg Post spesso andiamo a scoprire insieme alcuni termini che magari non sono noti ai più ecco razio, allora cerchiamo di capire insieme, vorremmo che ci spiegassi e che spiegassi appunto a tutti i nostri telespettatori un termine che abbiamo ascoltato spesso che è stagflazione, cosa significa e cosa comporta? Sì, il termine di stagflazione sta diventando un termine abbastanza comune in questi giorni, perché questo? Perché di solito sta a indicare due fenomeni che si verificano allo stesso tempo, cioè una inflazione elevata e una crescita bassa, una crescita che diventa ancora più bassa man mano che il prezzo dell'inflazione è elevato, quindi il combinato disposto di inflazione elevata e crescita bassa può, se rimane questa situazione per tanto tempo, può portare a una situazione di recessione e da qui il termine stagflazione. Eccolo qui, lo vediamo anche nella nostra grafica per sfissarcelo bene nella testa, perché però è un pericolo per la nostra economia, Orazio? È un pericolo la nostra economia perché un aumento elevato dei prezzi fa meno in meno la voglia sia di consumare che di investire e quando ci sono meno consumi e meno investimenti questo ha un effetto sulla crescita, quindi la crescita può rallentare fino a fermarsi e potremmo entrare in recessione e questo è il motivo perché le banche centrali, sia quella americana che quella europea, si stanno adoperando per normalizzare la loro politica e quindi per cercare di bilanciare gli effetti negativi dell'inflazione. Staremo a vedere allora che cosa succederà anche nella prossima riunione della Fed, intanto ti ringraziamo per essere stato al TG Post. Grazie a voi.